Ragazzi è bellissimo essere tornati al palaverde, entrare è facilissimo anche con tutte le misure covid, tutto molto ben rispettato, ma tutto estremamente semplice e ovviamente una volta dentro al palazzetto è come sempre una grandissima emozione, un sogno che si realizza. Entrare al palaverde è stato veramente semplicissimo, c'è avuto veramente un secondo, ti controllano il green pass, ti controllano il biglietto e nel giro di 15 secondi, forse 30 con la cosa sei dentro, poi vabbè la sensazione quando entri è sempre fantastica entrare in questo teatro della pallacanestro, non dico che ogni volta sia come la prima, ma sicuramente dopo un anno e mezzo di assenza ogni volta diventa importante. E bellissimo tornare al palaverde, dopo tanto finalmente tutto come prima, anzi più bello. Siamo tornati a casa, è uno spettacolo. A presto! A presto!